Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 buona notte, ciao, ciao, stai a casa? Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti i romani, anche noi Terron, poi questa è una città di Terroni ovviamente, ci siamo tutti, dai piemontesi ai siciliani. Grazie a tutti i romani, grazie a tutti i romani. Certamente a Trastire adesso non si può andare che a Piedi perché davvero visione è antico ed è ultra affollato per la festa, statevi bene.